5 motivi per cui potresti non perdere peso Benvenuti o bentornati sul canale Nutrizione per la Salute, sono il dottor Oricchio Gennaro, biologo nutrizionista. Immagrire Ti stai impegnando a seguire una dieta e a fare attività fisica ma la bilancia non si muove? Non preoccuparti, è una situazione comune. La perdita di peso è un processo complesso che coinvolge una serie di fattori fisiologici, metabolici e psicologici. Nonostante l'impegno e la costanza, molte persone riscontrano difficoltà nel raggiungere i loro obiettivi di dimagrimento. Questo episodio intende analizzare in dettaglio 5 dei principali motivi per cui non si perde peso durante un percorso di dimagrimento. Primo motivo Adattamento metabolico Il primo motivo riguarda l'adattamento metabolico. Quando si segue una dieta ipocalorica per un periodo prolungato, l'organismo si adatta a questa riduzione calorica. Il metabolismo basale, che rappresenta il numero di colorie che il corpo brucia al riposo, può ridursi per conservare energia. Questo fenomeno è noto come adattamento metabolico o termogenesi adattiva. E può rallentare significativamente il dimagrimento. Il corpo entra in uno stato di difesa, limitando l'uso delle riserve di grasso per proteggersi da un eventuale stato di carenza energetica, carestia. Questo spiega perché, nonostante la restrizione calorica, il peso può rimanere invariato o addirittura aumentare. Secondo motivo Composizione corporea e perdita di massa muscolare Un secondo fattore cruciale è la composizione corporea. Durante un processo di dimagrimento non è raro perdere anche massa muscolare, specialmente se la dieta è troppo restrittiva o se non si integra con un adatto programma di allenamento. La massa muscolare è metabolicamente più attiva rispetto al tessuto adipuscio, quindi una riduzione della massa magra comporta una diminuzione del dispendio calorico complessivo. Per evitare questo è fondamentale includere un apporto proteico adeguato nella dieta e praticare esercizi di resistenza per preservare e aumentare la massa muscolare. Infiammazione cronica e resistenza insulinica Il terzo fattore, il terzo motivo, è l'infiammazione cronica e la resistenza insulinica, che rappresenta un altro ostacolo comune alla perdita di peso. Questo stato infiammatorio può essere causato da una dieta sbilanciata, ricca di zuccheri raffrinati e grassi saturi, da un sonno insufficiente o da uno stile di vita sedentario. L'infiammazione cronica può contribuire allo sviluppo della resistenza insulinica, una condizione in cui le cellule non rispondono efficacemente all'insulina, l'ormone che regola i livelli di zucchero nel sangue. La resistenza insulinica provoca un aumento dei livelli di glucosio nel sangue che favorisce l'accumulo di grasso, soprattutto a livello addominale, rendendo difficile la perdita di peso. Quarto motivo, squilibri ormonali. Gli ormoni svolgono un ruolo essenziale nella regolazione del peso corporeo e delle riserve di grasso. Alterazioni ormonali, come quelle causate da disfunzioni tiroidee, sindrome dell'ovaio policistico o menopausa, possono influenzare negativamente il metabolismo e ostacolare la perdita di peso. Ad esempio, una ridotta produzione di ormoni tiroidei, come nel caso dell'ipotiroidismo, rallenta il metabolismo e riduce il consumo energetico, mentre un eccesso di cortisolo, l'ormone dello stress, può aumentare l'appetito e promuovere l'accumulo di grasso. E' quindi importante valutare lo stato ormonale attraverso esami specifici e, se necessario, intraprendere i trattamenti mirati. Quinto motivo, stress e fattori psicologici. Infine, un altro motivo rilevante riguarda l'aspetto psicologico. Lo stress cronico e le emozioni negative possono sabotare i tentativi di dimagrimento. Lo stress prolungato induce un aumento della produzione di cortisolo, che, come abbiamo visto, può favorire l'accumulo di grasso, soprattutto nella zona addominale. Inoltre, molte persone tendono a cercare conforto nel cibo quando sono stressate o emotivamente provate, sviluppando abitudini alimentari scorrette che ostacolano il dimagrimento. La gestione dello stress tramite tecniche di rilassamento, come la meditazione, lo yoga o l'attività fisica regolare, può avere un impatto significativo nel facilitare la perdita di peso. Conclusioni. Per concludere, la difficoltà nel perdere peso può dipendere da molteplici fattori che spesso si combinano tra loro. L'adattamento pedabolico, la perdita di massa muscolare, l'infiammazione cronica, la resistenza all'insulina, gli squilibri ormonali e gli aspetti psicologici giocano un ruolo determinante nel processo di dimagrimento. È importante quindi non limitarsi a una meno riduzione calorica, ma adottare un approccio olistico che tenga conto di tutti questi aspetti per raggiungere i risultati duraturi e in linea con il benessere generale dell'organismo. Affidarsi a un biologo nutrizionista può essere essenziale per individuare le strategie più adatte e personalizzate. Ricorda, la perdita di peso è un percorso complesso, ma con il giusto approccio puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Consulta un biologo nutrizionista per un piano alimentare personalizzato. Condividi questo posto con chi potrebbe trovarlo utile e lascia un commento se ti sei trovato in questa situazione. Disclaimer, gli articoli e i contenuti gratuiti forniti sono destinate esclusivamente a scopo informativo ed educativo. Non intendono sostituirsi alla consulenza del medico o del biologo nutrizionista. Grazie per aver seguito questo episodio fino alla fine. Spero che queste informazioni vi siano state utili. Se avete domande o volete condividere la vostra esperienza lasciate un commento qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti sulla nutrizione e la salute. Seguitemi anche sui miei profili social per ulteriori consigli e aggiornamenti. Sul mio blog trovate l'articolo completo di questo episodio. Vi auguro una giornata sana e felice. A presto.